Sono BomberMilan e ora vi mostrerò come guardare le partite su internet. Prima di tutto aprite il vostro browser internet e andate sulla vostra page, in questo caso Google. Nella casella di ricerca scrivete RoyaDirecta e selezionate il primo sito che vi appare. Successivamente entrerete nel sito di RoyaDirecta e cercherete la partita che volete vedere, ad esempio Milan Sampdoria alle 6 e scegliete uno di questi siti che vi propone la partita e ve la godete.